Di nuovo buongiorno Friuli e bentornati in diretta assieme a noi per proseguire questa nostra prima diretta di oggi con la rassegna stampa sportiva, con le notizie sportive di oggi. Iniziamo dai quotidiani sportivi nazionali, iniziamo dalla gazzetta dello sport e vediamo assieme il titolo di apertura. Ovviamente c'è il mondiale di Russia in primo piano e c'è la sfida fra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. CR7 Messi 3-0, il mondiale vive del duello tra i due mostri, scrive la gazzetta dello sport e in questo momento Ronaldo batte Messi per 3-0 anche perché ieri sera l'Argentina di Lionel Messi ha pareggiato contro l'Islanda e Messi ha fallito anche un calcio di rigore. L'Islanda stoppa l'Argentina rimontando lo svantaggio iniziale, finisce 1-1 anche perché la pulce sbaglia un rigore, perdendo la sfida a distanza con Cristiano. Ora rischia con la Croazia che guida il girone, Croazia che ha battuto per 2-0 la Nigeria. E vediamo anche il commento di Luigi Garlando che scrive uno in cielo l'altro a terra. Ci avete fatto caso? Venerdì quando Cristiano Ronaldo sbagliava si metteva le mani sui fianchi e guardava al cielo, quasi cercasse il dio invidioso che gli aveva deviato il tiro perfetto. Ieri Leo Messi dopo ogni errore si incamminava a testa bassa fissando gli inferi che sentiva di meritarsi. Queste le parole di Luigi Garlando nel suo articolo, nel suo commento in apertura. Ecco ancora tutta la prima pagina della Gazzetta dello Sport e poi vediamo appunto nelle pagine interne, nelle primissime pagine, piccola pulce, grande CR7. L'esordio è già un verdetto, Ronaldo vola, Messi frana dopo lo show del portoghese con la Spagna. L'argentino sbaglia con l'Islanda e chiede scusa, mi assumo le mie responsabilità. Queste le parole di Messi nella pagina accanto. Vediamo invece Cristiano Ronaldo, una macchina perfetta, scrive la Gazzetta. Vita sana, fisico curato, così nascono i record. Smartphone e tablet lontani dal letto prima del sonno, maniacale nei dettagli. Gli anni passano ma lui ringiovanisce. Nella pagina successiva invece spazio dedicato all'Islanda. Islanda che ha fermato l'Argentina sull'1-1, l'Islanda anche di Emil Alfredson. L'Islanda fa solo miracoli, Argentina bloccata, Leo sbaglia un rigore. Gran gol di Aguero, pari di Finn Bogason, poi poche emozioni. Il risultato è logico, scrive la Gazzetta leggendo in questo modo la partita di ieri. Lentissimo il centrocampo argentino, ben organizzata la squadra islandese. E al bianconero Alfredson nelle pagelle la Gazzetta dà un bel sette e mezzo. Alfredson prova eccezionale, grandissima interpretazione del match. Il senso tattico della nostra Serie A lo sorregge fino all'ultimo da Udine con furore. Queste le parole della Gazzetta dello Sport, un'ottima prestazione di Emil Alfredson che per poco non risulta il migliore della partita dal momento che Lotto in Pagella va al portiere dell'Islanda che ha parato il rigore a Messi. Alderson è da Oscar, scrive la Gazzetta. La Russia è dei vichinghi e Alderson è da Oscar. Messi ti ho studiato. Il numero uno fa anche il regista, non il regista di centrocampo, ma proprio il regista di video. Così è diventato un eroe in patria. Finn Bogason goleador con un passato sardo. Se passiamo dice chissà cosa accadrà. E poi vediamo anche l'articolo che sottolinea anche la prestazione del portiere che ha parato il rigore. C'è questo passaggio dell'articolo che dice è un sogno aver stoppato uno dei giocatori più importanti della storia ma in vista di questa partita ho fatto tanti compiti a casa e ho visto molti rigori calciati da lui e ho rivisto quelli che io ho parato cercando di entrargli nella testa e capire che cosa si aspettasse da me. Ha funzionato. E poi nella babele della sala stampa Moscovita i giornalisti nordici spacciano sul ragazzo numeri leggendari. Negli ultimi 24 rigori tirati contro di lui ne sarebbero entrati solo 9 con 10 parate, 5 fuori e questo di sicuro non è entrato ed è pesantissimo. Partire così, ha detto il giocatore, ci dà una spinta emotiva incredibile. Ed ecco ancora tutto l'articolo dedicato a questa partita. Ma andiamo, ritorniamo adesso in prima pagina così andiamo a vedere anche le altre partite giocate ieri al Mondiale di Russia. La Francia ha battuto l'Australia per 2 a 1 la Danimarca ha battuto il Peru per 1 a 0 la Danimarca di Larsen e poi gruppo D Argentina-Islanda 1 a 1 e Croazia-Nigeria 2 a 0. oggi si giocherà Costa Rica-Serbia, Brasile-Svizzera e poi per il gruppo F Germania-Messico. Questi i richiami in prima pagina andiamo adesso a leggere anche le altre notizie lasciamo per un attimo il Mondiale vediamo appunto che qui di spalla sono richiamate le gare di oggi oggi tocca a Neymar Brasile c'è la Svizzera Germania col Messico la Svizzera di Valon Berami Sele Sao è imbattuta per tre anni con Oneye ma non è al 100% e poi vediamo ieri Francia avanti a fatica con gli australiani 2 a 1 la VAR è fondamentale dicevamo delle altre notizie di oggi sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport andiamo nel taglio alto e vediamo il mercato il mercato in primo piano Gigio Test, Donna Rumma e Milan una lunga estate calda tra maturità e mercato futuro ancora incerto per il giovane portiere e poi vediamo top Juve le strategie per il centro campo Matuidi e Chiama Golovin lui ed Emre Can supercancelo in lista d'attesa sempre sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport oggi troviamo anche un'intervista all'ex ministro dello Sport Lotti che dice calcio italiano all'anno zero per ripartire servono regole nuove e poi per quanto riguarda il tennis Federer mito senza età ritorna numero uno al mondo inizia l'era di Roger Sesto è in finale a Stoccarda nel mondo dei motori oggi per la MotoGP c'è il Gran Premio di Catalogna Lorenzo Scatenato Rossi VII e Arrabbiato e poi vediamo gli europei di scherma Avola III Garrozzo si ritrova e Argento nel Fioretto e poi ancora il basket la festa per lo scudetto dell'Armani Milano promessa Pianigiani verso la terza stella e a proposito di basket il prossimo anno nella massima serie ci sarà anche Trieste che ieri sera ha battuto Casale per 72 a 63 e conquista dunque la promozione in A1 bentornata Trieste sbanca Casale e ritrova la serie A dopo 14 anni le sette triple dell'MVP il triestino Cavaliero trascinano l'alma al 3 a 0 nella serie 63 a 72 il risultato della gara di ieri e leggiamo anche le prime righe dell'articolo di Andrea Tosi il grande basket ritrova Trieste che in gara 3 della finale per salire in serie A completa lo sweep su Casale davanti a 500 tifosi Giuliani in delirio è un 3 a 0 ineluttabile e meritato che porta la firma di Daniele Cavaliero il 34enne Pleiti e Triestino tornato nella sua città per riportare la pallacanestro Trieste 2004 nata dalla retrocessione e dal falimento della vecchia pallacanestro nel massimo campionato le sette triple di Cavaliero suggellano la sua splendida nemesi di giocatore che entra con diritto nella storia del club e il titolo di MVP delle finali e la logica conseguenza Cavaliero in buca subito un 4-4 dall'arco nel primo quarto ma Trieste non riesce a scappare Casale Lotta fatica a segnare però non molla l'alma tiene il pallino segnando tre punti chirurgici nella ripresa tocca a Fernandez in bucare due triple sopra di dieci al trentesimo Trieste ha un passaggio a vuoto in avvio di ultimo quarto quando l'ottimo Sanders ricuce lo svantaggio e sorpassa 57 a 55 il pala a Ferrari si infiamma ma ci pensa ancora Cavaliero a gelare sempre da tre poi Bowers e Green chiudono l'area mentre Casale non ha più forze tradita dall'opaca prova di Capitan Martinoni sul più 11 inizia la festa dell'alma che aspettava questo momento da 14 anni ora coach Dal Masson otto stagioni a Trieste può finalmente ufficiare il suo gioco al piano di sopra dopo una lunga carriera nelle serie minori Trieste dunque promossa in serie A e questo è l'articolo che troviamo sulla Gazzetta dello Sport e a proposito di promozioni nella massima serie torniamo a parlare di calcio perché ieri sera si è giocata anche la gara di ritorno della finale promozione fra Frosinone e Palermo il Frosinone ha battuto il Palermo per 2 a 0 e il prossimo anno dunque giocherà in serie A ecco l'articolo sulla Gazzetta dello Sport Palermo in ginocchio e Longo si prende la A i laziali ribaltano l'1 a 2 dell'andata con Maiello e Ciano ma è stata una corrida ricorso rosa nero per la fine anticipata perché prima forse del triplice fischio finale dell'arbitro c'è stata un'invasione di campo dei tifosi del Frosinone e il Palermo farà ricorso per questo motivo vedremo vedremo come andrà le prime righe dell'articolo della Gazzetta dicono il leone ferito si liscia la criniera ruggisce e azzanna la serie A stavolta è tutto vero Frosinone dopo tante beffe il ritorno nella massima categoria è realtà è festa grande per una città e per tutta la ciociaria che si è stretta alla squadra grazie al lavoro del presidente Maurizio Stirpe commosso in tribuna accanto all'amico Antonio Tajani presidente del Parlamento europeo vittoria doveva essere e vittoria è stata dopo una partita nella quale ci sono stati poco calcio e tantissimi momenti di tensione il Palermo vincitore per 2 a 1 all'andata è stato ribaltato e può recriminare per un rigore negato e un finale giallo ma il ritorno in A è fallito queste le parole della gazzetta dello sport e poi appunto vediamo tutto l'articolo che analizza un po' come è andata questa partita e poi abbiamo anche le parole del presidente del Frosinone che dice tecnico riconfermato faremo di tutto per stare in alto sarà necessario fare dei sacrifici ma ora si può programmare ecco ancora tutto l'articolo con il tabellino della gara chiudiamo questa pagina della gazzetta dello sport vediamo nella pagina accanto anche il risultato della gara fra Siena e Cosenza Cosenza che sale in serie B dopo 15 anni anche il Siena si arrende scrive la gazzetta Calabresi B dopo 15 anni partita senza storia gol di Bruccini e bellissimo di Tutino Marotta illude i toscani su rigore e poi il 3 a 1 del Cosenza che chiude la gara e sancisce la promozione in serie B dei Calabresi chiudiamo la gazzetta dello sport adesso e prima di andare a vedere anche le altre prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali che ci riporteranno a parlare ovviamente del mondiale andiamo sui quotidiani locali andiamo sul gazzettino e vediamo i titoli dedicati alla nostra udinese vediamo che anche qui di spalla c'è il passaggio sull'ottima prestazione di Alfredson con la sua Islanda al mondiale Alfredson tiene a bada la pulce Messi Larsen all'esordio oggi Berami sfida il Brasile aveva ragione Emil Alfredson che aveva detto di sperare in un atteggiamento borioso da parte dell'Argentina e proprio così pensando che l'Islanda fosse la vittima sacrificale iniziale per un grande mondiale che la pulce Leo Messi si è inceppata sul più bello e Alfredson ora può festeggiare in campo per tutti i 90 minuti della partita il centrocampista dell'Udinese ha messo ordine nella sua squadra limitando in alcuni casi proprio le improvvise accelerazioni del fuoriclasse globale con il 10 sulle spalle il dramma sportivo di Messi poi si è consumato nella ripresa quando si è fatto parare il rigore che poteva valere tre punti e poi ancora vediamo nel tardo pomeriggio di ieri ha esordito in Russia anche la Danimarca di Enz Struger-Larsen il terzino dell'Udinese arrivato in Friule alla fine della scorsa estate ha giocato titolare contro il Peru e la partita è terminata 1-0 e questa sera alle 21 grande sfida per Valon Berami la sua Svizzera debuterà a Rostov contro l'avversario forse più forte di tutta la rassegna il Brasile di Neymar sarà così inaugurato anche il gruppo E che comprende altre due sfidanti di stasera al Costa Rica e Serbia la Svizzera tornerà in campo il 22 giugno proprio contro la Serbia per quanto riguarda l'Udinese si parla della difesa avevamo intravisto prima l'articolo il titolo anche sulla prima pagina del fascicolo del Friuli del Gazzettino la difesa dell'Udinese deve essere rifatta scrive il Gazzettino Angela non ha trovato spazi adeguati e Danilo a 34 anni ha perso smalto Velasquez punterà su una linea a 4 e bisogna individuare i migliori interpreti il brasiliano Danilo Larangeira ha disputato 244 gare di campionato con la maglia bianconera superando il primato di Nestor Sensini e poi le prime righe dell'articolo di Guido Gomirato bisogna mettere mano per sistemare alla retroguardia rivelatasi un colabrodo un colabrodo per sistemare la retroguardia rivelatasi un colabrodo sono troppi i gol che l'Udinese ha subito nello scorso campionato ben 63 ma questo andazzo sta andando avanti da 5 anni la difesa si è sempre rivelata il settore bianconero più debole anche se nel calcio moderno vige il concetto secondo cui è il collettivo che conta ovvero l'equilibrio tattico per cui se è vero che dietro si è ballato non è che i centrocampisti attaccanti siano esenti da colpe e che nella seconda fase del gioco sovente non siano pervenuti considerazioni a parte l'Udinese necessita di due puntelli difensivi centrali perché né Angella né Danilo danno più valide garanzie mentre Samir verrà definitivamente collocato quarto difensore di sinistra dopo i marchiani errori commessi nell'interpretare la retroguardia a tre e poi appunto l'articolo che prosegue sottolineando che a 34 anni Danilo potrebbe essere ceduto soprattutto se si considera che ha difficoltà a interpretare la difesa a quattro preferita dal nuovo allenatore Velasquez la società sta cercando di trovargli una squadra ma non è così facile il brasiliano un ingaggio importante garantito oltretutto per due anni il suo futuro potrebbe anche essere all'estero vedi la Liga o la Premier ma l'ultima parola aspetterà al diretto interessato nel taglio basso l'articolo che riassume un po' le ultime voci di mercato con il Bologna c'è l'ipotesi di scambio con De Maio interessano anche i giovani parigini e José Macchin queste appunto alcune voci Carnevale Blinda Meret scrive ancora il gazzettino Alex Meret assieme a Gigio Donnarumma è uno dei migliori giovani portieri del panorama europeo nei nostri programmi l'Udinese partirà con lui titolare il presidente vuole così secondo me è ancora meglio di Samir Andanovic quando giocava con noi se in futuro qualcuno lo prenderà farà un affare quando presi lo sboveno aveva 18 anni ovviamente sul ragazzo deciderà la proprietà alla fine queste le parole di Andrea Carnevale sul giovane portiere ex SPAL nelle ultime ore è piombato anche il Napoli ma Roma e Fiorentina sembrano ancora in netto vantaggio su tutte le altre concorrenti Carnevale ha detto che Meret giocherà nell'Udinese ma il mercato è lungo e le offerte in arrivo sostanziose queste le parole di Andrea Carnevale poi appunto le considerazioni del gazzettino ancora vediamo per quanto riguarda le altre voci la gazzetta dello sport parla di un interessamento della Lazio per Secco Fofanà ancora altre voci per Depol che piace alla Fiorentina ma c'è anche l'interessamento del Bologna che potrebbe ripagare con Sebastien De Maio e SPAL per il capitano Larangera e poi per quanto riguarda le entrate si fa il nome del 21enne José Macchin mediano nato nella Guinea Equatoriale di proprietà della Roma che si è messo in evidenza in serie B con la maglia del Pescara Radiomercato registra anche la voce dell'ex animatore dell'Udinese Igor Tudor che a tutto mercato web ha detto quel che posso dire che sono veramente contento di aver fatto sette punti meritatissimi che sono valsi la salvezza della squadra è stata un'esperienza bellissima mi è fatto piacere tornare in Italia dopo tanti anni queste le parole del croato andiamo anche a vedere le ultime notizie che ci arrivano da casa a Pordenone vediamo l'apertura dedicata ai piccoli ramarri in semifinale l'under 17 di mister Rispoli domani alle 20 e 30 affronterà l'Alessandria Forlì parte l'assalto allo scudetto per l'under 17 del Pordenone l'under 16 è invece già in finale sabato prossimo la sfida contro il Renate per vincere il tricolore non ci sono invece ancora novità per quanto riguarda l'allenatore nel taglio alto vediamo il presidente del Mestre Serena che ribadisce di non aver avuto ancora contatti con Lovisa per il tecnico Zironelli ma il matrimonio pare ormai scritto il mercato dei neroverdi supermarket Pordenone partono Burrai e Formiconi Burrai è il giocatore più richiesto di tutta la rosa ecco qua poi tutto l'articolo gli obiettivi del Pordenone Alberto Spagnoli Daniel Semenzato Andrea Boscolo Papo Federico Maracchi la margherita degli obiettivi neroverdi ha per ora questi petali ancora per quanto riguarda invece la Sanvitese addio Sanvitese Rossi alle giovanili dell'Udinese il tecnico commosso io qui lascio il cuore grazie davvero a tutti Massimiliano Rossi il bomber per Antonomasia degli stessi Biancorossi quando ancora calzava le scarpette bullonate e imperversava sui campi della via ha avuto un'offerta dall'Udinese dice il Gazzettino sarà il neotecnico dei giovanissimi nazionali chiudiamo anche il Gazzettino e in chiusura di questa nostra rassegna stampa sportiva andiamo a vedere velocemente anche le prime pagine dei due quotidiani nazionali che ci mancavano Corriere dello Sport e Tutto Sport vediamo il Corriere dello Sport che apre con questo titolo e la foto di Messi Capra 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 Messi svuotatissimo non sa reagire alla tripletta con provocazione di CR7 Leo irriconoscibile con l'Islanda uno a uno sbaglia tutto anche un rigore il primo round è di Ronaldo e oggi tocca al terzo incomodo Neymar e alla Germania nel taglio alto operazione Ru Madrid per Alisson è solo questione di giorni cresce la voglia di Milinkovic Savic per il quale l'ottito è salito a 150 milioni l'agente Ketzmann da Florentino in settimana a Parigi insiste per Cristiano e l'arrivo di Lopeteghi scatena i desideri del Real nel taglio basso il frosinone tra le stelle andiamo anche su tutto sport e vediamo l'apertura intervista esclusiva al papà di Milinkovic Savic ascoltami vai alla Juve queste le parole del papà di Milinkovic Savic dice così il padre del Laziale dice l'ho detto tante volte a Sergei quella bianconera sarebbe la squadra ideale per lui a Torino può completarsi e vincere tutto pallone d'oro compreso il Real Madrid può attendere venerdì il giorno di Emre Can e poi nel taglio alto vediamo Messi in cubo mondiale con il tutto sport con questa prima pagina noi chiudiamo questa nostra rassegna stampa di oggi come vi abbiamo detto in apertura oggi messaggero veneto piccolo non sono in edicola e allora prima di salutarci andiamo a vedere anche se ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda le notizie di cronaca dall'Italia e dal mondo ecco il sito del TGcom 24 prima avevamo letto sui quotidiani nazionali la notizia riguardante lo stop ad altre due navi di migranti decisa dall'Italia c'è un aggiornamento per quanto riguarda la nave Aquarius che è arrivata a Valencia ecco qua il lancio del TGcom 24 delle 7 Spagna arrivati a Valencia i migranti della nave Aquarius dopo 9 giorni in mare approda un primo gruppo di 274 persone trasportate dalla nave d'attilo della guardia costiera italiana questo l'aggiornamento questa l'ultima ora prima di salutarci come sempre vi ricordo anche i principali appuntamenti di oggi su Ud News TV c'è il TG delle 19 come ogni domenica e poi lo vediamo nella nostra locandina alle 15 la telecronaca differita dello spareggio tra Tavagnacco e Fiorentina per l'accesso alla Champions League purtroppo il Tavagnacco come sappiamo ha perso però comunque una gara da vedere questo spareggio per l'accesso alla Champions appuntamento alle 15 siamo in chiusura di questo nostro buongiorno friuli di oggi allora io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione vi auguro una buona domenica a Grazie a tutti.